Shiba Inu può arrivare un dollaro? Shiba Inu ti può rendere milionario? Shiba Inu truffa o reale opportunità? Risponderemo a queste domande nel video di oggi di CryptoNFT Italia. Io sono Ryan, oggi parliamo di Shiba Inu, una delle criptomonete più amate dagli italiani, ultimamente in molti stanno investendo in Shiba Inu e naturalmente uno dei fattori è l'attuale prezzo di mercato che è molto concorrenziale rispetto al suo massimale. Ce lo ritroviamo a 0,508109 e il massimale storico di sempre, come possiamo anche andare a vedere adesso, è 0,4088. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io andassi a investire 10.000 dollari mi ritroverei tutti questi Shiba Inu. Andando nella calcolateria facciamo subito questo calcolo insieme e andiamo a moltiplicare questo totale di Shiba per il massimale storico. Ok? Ecco che in totale io mi ritroverei a 108.000 euro, dollari, euro, dollari, più o meno il valore è quello. Ok? Quindi di conseguenza guardando quello che è il massimale sicuramente così non ci può rendere milionari, però se andiamo a investire un po' di più sì, ecco se investiamo 100.000 sicuramente ci può rendere milionari. Solo guardando il massimale, ma non si guarda solo il massimale, questo noi lo sappiamo. Diciamo che da questo punto di vista ormai Shiba Inu non ha certezza, è molto più di una meme coin, quindi diciamolo subito, livello 17, quindi posto numero 17 per capitalizzazione di mercato, 4 miliardi di capitalizzazione di mercato, 4 miliardi e mezzo di dollari di capitalizzazione di mercato. Andiamo a vedere su Price Prediction qual è la... poi vi leggerò alcune notizie e vi dirò dove secondo noi può arrivare se può arrivare un dollaro. Su Price Prediction ecco che dicono che nel 2031 Shiba Inu potrebbe arrivare a 0,3051. Facciamo subito un piccolo calcolo, mi piace farvi vedere le cose sul campo, quindi vediamo se ci fa cancellare, aggiorniamo la pagina e tanti saluti. Ecco che se io vado a moltiplicare 0,0055 mi ritroverei più o meno con 700.000 euro, 700.000 dollari. Ed ecco che qui potenzialmente sì ci può rendere magari milionari. Detto questo, ok, abbiamo visto che il mercato è estremamente bullish su Shiba Inu perché un risultato di questo genere, naturalmente questi siti non sono manna dal cielo e soprattutto tutto quello che io vi dico, prendetelo con le pinze perché non sono un consulente finanziario, ma nemmeno un consulente finanziario può darvi certezza, soprattutto in questo periodo. Certo che visto l'attuale prezzo può essere ottimo poter entrare in Shiba Inu. Detto questo, se io vado a paragonare Shiba Inu al prezzo attuale di Bitcoin e quindi se Shiba Inu raggiungesse la stessa capitalizzazione di mercato di Bitcoin, ecco che potrebbe arrivare a valere 0,30724. Questo può essere un ottimo risultato, però dobbiamo anche considerare che Bitcoin in questo momento vale 22.000 dollari, quindi è crollato totalmente. Shiba è crollato totalmente, quindi di conseguenza questo è un prezzo per l'attuale prezzo di mercato. Se dovesse riprendersi il mercato, da questo punto di vista dobbiamo fare un 4x ulteriore da questo prezzo. Ed ecco che comunque ci avviciniamo a quello che è il valore magari che vogliamo raggiungere con Shiba Inu. Però c'è da dire una cosa molto importante. Allora, partiamo dal presupposto che ci sono delle news importanti che fanno sperare e pensare a un'evoluzione, perché Shiba ha un marketing incredibile, è una moneta, una criptomoneta molto supportata dalla community e questo aiuta a farla crescere e comunque a rimanere lì, nella top 20. Ce la siamo ritrovati in passato anche in posizioni più alte. Diciamo che da questo punto di vista però, andiamo a leggere proprio questa notizia qui, che stanno aumentando le transazioni delle whale, delle balene. Per esempio, Blue Whale 0073 ha acquistato da poco 375 miliardi di Shiba. Parliamo di un valore pari a 4,56 milioni di dollari, quindi non briciole, ok? Perché secondo voi lo fa? Perché una balena pensa di poter fare dei bei guadagni da questo punto di vista, ok? E se torniamo indietro, un mese fa Blue Whale aveva acquistato addirittura altri 109 miliardi per un totale di 1,40 milioni di dollari, ok? Quindi le whale stanno accumulando Shiba. Se le whale stanno accumulando Shiba, un motivo c'è. Detto questo, io chiudo questa notizia, chiudo anche le previsioni che l'abbiamo già visto, è il portale ShibBarn, che permette di andare a barnare, a bruciare le criptomonete Shiba, ok? Se andiamo a vedere qui in basso alcuni numeri, dobbiamo considerare che 410,24 trilioni di token Shiba sono già stati bruciati, ok? E questa è una cosa importante che è pari al 41% dell'intera fornitura di Shiba, quindi più token vengono bruciati e meglio è. Vi ricordo che Vitalik Buterin, il creatore di Ethereum, aveva distrutto 410,24 trilioni di Shiba nel maggio 2021 quando è stata lanciata essenzialmente Shiba. Andiamo a vedere però un dato molto importante, che la community, oltre questi di Vitalik Buterin, ha bruciato 119 miliardi di Shiba, perché voi direte, ok, ma questi dati a cosa corrispondono? Ok. Corrispondono al fatto che se facciamo un piccolo calcolo, noi abbiamo praticamente come community di Shiba Inu bruciato in totale 119 miliardi di Shiba, che valgono più o meno 1,27 milioni di dollari. E tutti questi burning nel corso del tempo permetteranno alla criptomoneta di aumentare di valore. Perché? Perché meno moneta circolante c'è, più aumenta. Avete presente l'oro? L'oro vale così tanto perché è comunque un bene rifugio, un bene che non è infinito, ok? E quindi questo dà una grossa, grossissima mano a Shiba Inu. Nello stesso tempo vi ricordo che sta per nascere Shibarium, il layer 2, ok, che è una soluzione blockchain proposta per la prima volta da Ryoshi, che è il creatore di Shiba Inu Coin. Andiamo un attimino a vedere che cos'è questa blockchain per capire perché è così importante per tutta la rete di Shiba Inu. Shibarium e layer 2. Generalmente un layer 2, se non lo sapete, è un'evoluzione della blockchain, di una determinata naturalmente blockchain. In questo caso specifico quindi non vuol dire che nascerà un token Shiba Inu 2.0 oppure Shiba Inu cambierà totalmente la blockchain perché rimarrà comunque connessa a Ethereum. Però uno degli obiettivi primari, visto che sappiamo benissimo che le gas fee di Ethereum sono alte, però c'è anche da dire che poi adesso c'è il discorso che Ethereum passerà al merge con il nuovo Ethereum e quindi di conseguenza queste gas fee poi con lo sharding si avvesceranno, quindi cosa molto interessante. E immaginate un mix di questa cosa con il fatto che questo layer 2 ha l'obiettivo primario di abbassare le commissioni di transazione per coloro che fanno parte dell'intero sistema Shiba. Quindi al di là del merge di Ethereum, che comunque ancora non è avvenuto, loro vogliono appunto abbassare le commissioni di transazione. Quando ci sono novità di questo genere, di questa portata, vuol dire in primis che la community, la community, scusatemi, chi c'è dietro a una blockchain, quindi direttamente chi prende le decisioni, vuole investire in questa blockchain, la vuole sviluppare, la vuole migliorare, quindi capite che è molto di più di una meme coin, ok? Nello stesso tempo però la community inizierà a utilizzare sempre di più, a credere sempre di più in quel token perché vede un miglioramento, ok? E chi ancora non ha investito si avvicinerà. Tutto questo porta sempre a un aumento di valore naturalmente del token stesso perché è vero che in questo momento, vista l'offerta circolante, è difficile che Shibaino, quindi vi rispondiamo, può arrivare un dollaro? È molto molto complicato, però è anche vero che con il lancio di questo Layer 2, con i miglioramenti di Shibarium, ora non voglio entrare troppo nel dettaglio, però dicono che dovrebbe essere lanciata a metà del 2022, probabilmente il prossimo mese, vediamo, ok? Una cosa molto importante è proprio questa, che è l'unione di la nascita di un Layer 2 come Shibarium, la nascita di portali dove vanno a bruciare questi token, il fatto che comunque lo stesso token cresce perché la community cresce, perché l'ecosistema cresce, ok? e magari nel corso del tempo questa tokenomics la miglioreranno rendendolo sempre meno inflazionato, porterà Shiba ad aumentare di valore. Secondo noi a un dollaro è molto difficile che possa arrivare, però possiamo pensare che possa arrivare a una cifra come questa. Questo sì, ma non perché raggiunge la stessa capitalizzazione di mercato di Bitcoin, ma semplicemente perché il token migliora, aumenta la capitalizzazione di mercato, diminuiscono i token presenti, ok? E soprattutto tutto il mercato si riprende, perché un aspetto importante, fondamentale da non sottovalutare è che adesso siamo in un vero e proprio bear market. E quando c'è il bull market, allora lì cambia tutto quanto, ok? Con questo video abbiamo terminato, però voi fateci sapere cosa pensate di Shiba Inu se avete investito e secondo voi dove può arrivare.